Sono veramente entusiasta di partecipare a questo meraviglioso progetto dell'anno sabbatico, la prima scuola in Italia per l'anno sabbatico, una scuola nella quale avrò l'onore e il piacere di offrire il frutto degli ultimi 30 anni di ricerca sul campo con esperienze concrete, nel campo dell'impresa, dell'economia, della formazione, della crescita personale, dell'alchimia, della psicologia e ho potuto in qualche modo coagulare quello che è stato per me sempre il focus al centro della mia vita, dei miei interessi persone esterne, cioè il talento individuale di ciascuna persona e il talento collettivo, cioè la capacità di esprimere talenti in gruppo. Con entusiasmo metterò a disposizione quelle che sono delle conoscenze, delle pratiche per sviluppare il talento animico, l'unico vero talento che noi abbiamo. I talenti del fare, cioè i talenti della personalità, ne discendono, discendono da quello che è il talento spirituale. Offre una serie di chiavi che smontano delle credenze e che creano infinite frustrazioni intorno alla ricerca, alla manifestazione del talento. La scuola dell'anno sabbatico prepara nell'anno 2004, a partire da gennaio, un semestre meraviglioso di fuoco. Vi invito a guardare bene il programma, nei suoi dettagli. Io avrò vari interventi nel corso di questo maxiprogramma di sei mesi, ma che voi potete considerare anche parzialmente. Quindi osservate il programma per intero e anche le singole proposte seminariali di un tipo di residenza e vi invito veramente a fare una riflessione, a fare un piccolo e grande investimento nella nostra vita e a seguire i lavori dell'anno sabbatico, anno zero, del quale io ho l'onore di essere parte.